Allora, torniamo in diretta, buonasera, ben trovato l'assessore Riccardo Riccardi, assessore regionale della sanità, vicepresidente della giunta Friuli Venezia Giulia. Allora, è un po' che non ci vediamo, un po' di cose sono cambiate, qualche polemica negli ultimi giorni, la sua candidatura all'europea ha già smentito, almeno ha letto dai giornali, sicuro? Non perdiamo tempo. Non perdiamo tempo, va bene. Cosa succede a Fuoco Amico negli ultimi giorni? Poi parliamo anche delle ristrutturazioni, riforme, tutto quello che è, ma perché la attaccano? Io penso che chi fa questo lavoro non è che può incontrare un'unanimità, diciamo che è abbastanza fisiologico incontrare il contrasto delle opposizioni, è un po' più singolare, ma ci sta, insomma, avere anche qualcuno che all'interno della tua maggioranza dice che alcune cose le farebbe in maniera diversa, insomma, ecco, io la prendo così e poi, insomma, governare la salute è una cosa complicata, io penso che le critiche siano tutte utili, quando le critiche cominciano a essere un po' più pretestuose, addirittura si fanno per statuto e fanno parte della tua parte, allora probabilmente c'è qualche altra ragione, insomma. E lei dice forse il fatto che non sia stato convocato Zalucano in Comitato dei Saggi, quello è una che potrebbe essere una delle chiassi di lettura, però. Insomma, il dottor Zalucano le sue ragioni le avrà lui, a me sinceramente interessano poco per il tono, la frequenza, ma non tanto delle critiche nei confronti dell'assessore della sanità, che insomma le deve considerare nello statuto, no? Quanto per la, anche violenza in certi momenti, anche nei confronti soprattutto degli operatori della salute. Questa è la cosa che più mi addolora, perché non se lo meritano, io li vedo lavorare con determinazione questi ragazzi, con le difficoltà di questo lavoro, la complessità di quel sistema, che io da questi studi credo di avere criticato in maniera puntuale, oggi mi ritrovo con quelle cose, riconfermando sostanzialmente le idee che sostenevo in quel tempo, che non hanno mai messo in discussione l'esistenza di un numero unico, ma mettevano in discussione come era stato organizzato, come era stato creato e oggi stiamo intervenendo proprio su questo. Ecco, adesso arriviamo al numero unico, perché guardi che è sempre quello che ovviamente ci chiedono anche da casa. Con Bini vi siete chiariti, vi siete parlati in giunta, avete avuto occasione di… Io Bini non ho avuto modo di vederlo, lo vedrò in giunta domani, ma io non ho niente da dire, cosa devo dire, sono abbastanza, posso dire in maniera presuntosa, esperto per capire come funzionano queste cose, probabilmente quando hai delle tensioni in casa tua cerchi di metterle a posto guardando ad altri, facendo capire in casa tua che cosa non va, io ho le discussioni in casa sua, è il progetto FVG o è l'assessorato alle attività brutte? No, insomma, quando un partito legittimamente dice facciamo una verifica sulla sanità, perché dobbiamo capire come va la riforma, la riforma è partita da due mesi e vuoi fare una verifica, siccome qui nessuno è nato ieri, capisci che le ragioni sono altre. Io sono disponibile a discutere con tutti, ho solo detto a Bini, mi pare pubblicamente ma senza nessun tono polemico, quando si sta in una giunta regionale bisogna capire come si sta a tavola, a tavola si sta nel rispetto e nella mutua solidarietà di quelli che dividono il peso del governo. O nella percentuale, diciamo, perché lei ha dovuto fare un sacrificio non da poco, prendendo sia la patata bollente, la cosa più complicata. Sì, mi sono assunto questa responsabilità, insomma. Però lei ha detto cose non da poco, vedremo se queste affermazioni avranno conseguenze sull'assetto della maggioranza, se c'è andato giù duro nella replica. No, ma questo l'ho detto a Claudio Giacomelli quando insisteva sulla necessità di ritornare al 118. Allora, noi possiamo discutere dell'1-1-2, possiamo discutere di questa nuova procedura. Peraltro oggi è venuto a trovarci il direttore dell'emergenza nazionale dei Vigili del Fuoco confermandoci sostanzialmente questa linea. Ho ascoltato attentamente il Ministro degli Interni, si chiama Matteo Salvini e dice che il 112 è una strada, è una direzione obbligata. Ora, immaginare di tornare al 118 e immaginare che il 118 possa essere diviso in quattro centrali dei capoluoghi delle ex province perché non ce ne abbiamo più, al mio amico Claudio Giacomelli che è una persona che stimo, dico fai un po' più attenzione ai tuoi suggeritori perché poi sappiamo perfettamente da dove arrivano questi tipi di segnali, no? No, insomma, la sanità è un meccanismo molto complicato che ha bisogno di cure forti. Dentro il sistema ci sono molti interessi, ci sono molti interessi che guardano ad un orizzonte che garantisca il sistema di andare avanti, c'è qualche particolarismo che non vuole cambiare le cose che ci sono perché evidentemente preferisce che si arrestino così e quindi quando tu vai a toccare alcune cose è chiaro che hai delle reazioni. Siccome parliamo di un'amatoria molto complicata, chi ha la presunzione di essere un esperto del settore e magari si rivolge all'esponente delle istituzioni che quell'esperienza non ha, evidentemente quello giustamente sta ad ascoltare e magari si prende dei consigli che forse sono un po' di parte. Ma è pure l'osservazione invece è l'esatto contrario, cioè rispetto all'origine di Forza Italia, la proposta di origine di Forza Italia rispetto alla sua idea si è applicato, vi dicono in continuità, pur facendo di certo delle modifiche anche sostanziali come l'azienda Zero, il ristudio dell'area, tornando alle aree vaste, chiaro che c'è una modifica, però resta molto di quello che era stato fatto prima. Lei stessa lo ha ammesso dopo l'ascolto con gli operatori e il territorio, lo ha ammesso perché già era partita una riforma precedentemente, non la si poteva scardinare, altrimenti sarebbe stato peggio. Quindi c'è questo peccato originale, quindi in realtà forse ha toccato poco? No, io non credo di aver toccato poco, perché al di là di questo, guardi, è sempre la solita storia, io la racconto sempre in questo modo, la soluzione migliore sarebbe stata dividere i due fenomeni, quello territoriale e quello ospedaliero, e questa era l'idea di fondo dalla quale tutti quanti siamo partiti, è stata la critica principale che noi avevamo fatto alla riforma della Seracchiani. Questo lavoro è andato avanti due anni, noi quando abbiamo fatto la ricognizione, ascoltando buona parte, anzi quasi tutti gli operatori, la stragrande maggioranza di questi operatori ci hanno detto, dividendo ospedale e territorio partendo da zero sarebbe stata la soluzione migliore, ma sono passati due anni e mezzo. E quindi in questi due anni e mezzo è evidente che c'è stato del lavoro e oggi immaginare di tornare dietro questo, la valutazione costo-benefici rischierebbe di essere molto più costosa di quella che rende, quindi forse è il caso di riassestare però senza modificare questo tipo di assetto, quindi il modello organizzativo sostanzialmente invece di avere un'area vasta territoriale, la divisa in tre e la relaziona direttamente dentro un'azienda con il sistema ospedaliero, fermo restando che il sistema ospedaliero è quello territoriale, inevitabilmente si devono parlare. Certo, torniamo all'1.1.2, una delle segnazioni che ne hanno fatto in questi giorni e è un sistema applicato da prima di lei, come diceva prima, è che il 50% delle geolocalizzazioni della chiamata di soccorso sono errate e devono essere corrette in un secondo momento, con la seconda telefonata, eccetera. Sì, è una di quelle cose che io ho criticato 5 anni. E lei però disse che lì c'è bisogno anche di personale in più, e poi arriviamo al taglio dell'1% di cui si è discusso molto di queste settimane, però in qualche maniera può essere legato. No, il taglio del personale sul 1.1.2 è un tema che non esiste, noi abbiamo allineato aumentando il personale, quindi questa è stata la prima risposta. Poi c'è il problema dell'adeguamento tecnologico, il 112 nasce attaccandosi al 118, il 112 doveva nascere senza attaccarsi a nulla e quando tu ti attacchi una nuova tecnologia, una vecchia tecnologia, trovi i limiti che oggi ci determinano questa condizione della geolocalizzazione che per il 50% trova delle difficoltà. Cosa intende per attaccandosi al 118? Vuol dire che tu hai un sistema al quale ne attacchi un altro, quindi hai una tecnologia che funziona, la quale è una sorta di ampliamento del numero dei piani di una casa, in realtà quel sistema andava pensato da zero, c'è stata una corsa contro il tempo perché si voleva riuscire a fare questa operazione entro la fine della legislatura, questo è accaduto. Io qui ho ricordato in commissione con il dottor Antonio Aglia che era dall'altra parte quando io lo contestavo, era lui stesso che ci diceva guardi che io rispetto la tecnologia oggi faccio delle difficoltà, quindi noi stiamo adeguando questo e quindi stiamo migliorando, introducendo quegli elementi in natura tecnologica che sono difficili da inserire nel momento in cui li attacchi invece che pensarli da zero in un unico colpo. Questo è il problema. Quanto ci vorrà per la fine di questa? Le assunzioni quante sono state, assessore, le aggiunte nel settore 112, quante sono state le nuove assunzioni, che ricordo lei parlò di… Adesso mi pare che ne abbiamo gli ultimi, ma complessivamente dovrebbero essere 36, quindi c'è un problema di avvicendamento, di procedura nella conduzione della chiamata che peraltro vede delle vistose riduzioni su questo e io mi sento di dire che il sistema sicuramente non è perfetto, ci sono molti margini di miglioramento, però già questo miglioramento lo si vede, quindi immaginare di trovare delle soluzioni che guardino all'indietro quando tutta Europa va in una certa direzione mi sembra assolutamente irresponsabile. Quando questa parte sarà completata nella sua riforma? Avremo tutto quest'anno nel quale lavorare, abbiamo già fatto dei passi in avanti, ma io penso che sarà un lavoro durato tutto l'anno. E quando dirà la riforma sanitaria è arrivata al suo completamento? Bisogna chiudere entro l'anno la pianificazione sociosanitaria che è l'impalcatura che si aggiungerà al modello di governo che abbiamo già varato in sei mesi, garantisco che non è stata un'operazione facile. Io mi auguro di trovare senso di responsabilità al di là di quelle che possono essere le singole opinioni, che possono anche essere diverse. Guardi, noi abbiamo un grande problema nella sanità di questo paese, che se noi non facciamo le scelte che dobbiamo fare, che potrebbero apparire anche scelte dure, quindi a volte anche impopolari, il sistema rispetto alla tenuta dei costi non riesce a tenere, quindi noi negli anni, se non prenderemo quelle decisioni che negli ultimi 25 anni in questa regione non sono state assunte o sono state assunte male, noi metteremo a rischio la qualità e la garanzia della salute a tutta la nostra regione. Mi fa un esempio di queste scelte? Non si è scelto di intervenire sulla riduzione degli sprechi, non si è scelto di lavorare sulla casistica, oggi noi abbiamo tre grandi questioni. Sa che però casistica significa anche punti nascita allora, quando si dice che sotto i 500 è rischio. La casistica è, noi siamo in presenza di risorse limitate, siamo 1 milione e 200 mila abitanti e abbiamo pochi medici, quindi il problema che… Questo per una programmazione nazionale anche, no? Questo per un problema, sì certamente, per un problema complessivo… Lei è d'accordo per esempio, non la interrompo più, è d'accordo per esempio che gli specializzanti facciano una specializzazione in corsia per esempio, che è una delle idee che ha l'autonomia del Veneto per portare più medici. Sono assolutamente d'accordo, ed è uno dei temi che stiamo discutendo con il Ministro della Salute. Ma le dicevo che rispetto a questo tema, ritornando alla casistica, oggi noi in queste condizioni è in una società che ha il 26% delle persone che hanno superato i 65 anni, quindi portano con sé una cronicità che va non curata dentro l'ospedale, ma curata fuori dall'ospedale e va curata per tutto il tempo fortunatamente più lungo dove la persona vive, oggi davanti a queste condizioni la casistica diventa determinante, cioè più capacità di avere i casi riesci ad avere, più migliori le tue capacità e le tue prestazioni, più devi riuscire a concentrare ovviamente tutte le condizioni che ti consentono di avere l'adeguata tecnologia e la migliore organizzazione per dare questo tipo di risposte. Io vado da un medico indipendentemente che sia a 10 minuti di macchina dal punto in cui vivo, ma vado da un medico quando penso che quel medico sia nelle condizioni di risolvere il mio problema. Senti, a proposito, quota 100 avete fatto i conti, perché sono pesanti, è su istruzione e sanità, li stiamo facendo e sono pesanti, quindi c'è il tema dell'avvicentamento anche del cambio generazionale, centinaia di medici, non solo medici, esattamente, perché il medico è una vicenda importante, poi c'è il tema di tutte le professioni sanitarie, che è un'altra questione, anche gli infermieri, le ossa, c'è una partita complessa che la quota 100 determina nell'intero settore della pubblica amministrazione. Allora, lei dice che il taglio dell'1%, l'ha detto più volte, l'ha spiegato chiaramente più volte, è dovuto a un'imposizione, definiamola così, nazionale, taglio 1% sul personale, a che punto siamo? Si è trovato un accordo, come pensa di applicarlo? Intanto noi abbiamo chiuso, perché quando le cose si fanno poi se le dimenticano tutti, intanto noi abbiamo chiuso la distribuzione delle RAR, che sono le risorse aggiuntive regionali, con un contratto scaduto e mettendo a disposizione l'intera somma che c'era nell'anno precedente, cosa che non è avvenuta in tutte le regioni italiane, le quali non si sono trovate neanche nelle condizioni di poter destinare queste risorse, perché non le avevano. 1. 2. C'è il tema dell'1%, il tema dell'1% risponde ad una norma dello Stato che ti dice che qualora il tuo servizio sanitario regionale sia in perdita, l'imposizione che dai sulle linee guida dell'esercizio precedente, e ci riferiamo ai dati dei bilanci del 2017, quindi il sistema non l'ho trovato in perdita io, così era e così me lo so, devo imporre il taglio dell'1% del personale. Questo è avvenuto nel 2014, nel 2015, nel 2016 e nel 2017, l'unico anno in cui non è avvenuto è stato il 2018, forse perché si andava a votare. Quindi quella è un'imposizione dello Stato che noi dobbiamo governare. Ricordo le critiche forti da parte della Corte dei Conti rispetto a questo, il tema dei conti è un tema importante della ragione vera per la quale la riforma prende un'azienda che coordinerà tutte queste attività e sicuramente non potrà consentire che avvenga quello che è avvenuto nell'ultima legislatura, dove negli ultimi 4 anni la spesa corrente del servizio sanitario regionale è aumentata del 5 al 10%, questo non è più sostenibile per i conti. Io sono per salvaguardare il livello delle risorse che oggi vengono assegnate al sistema salute, complessivamente nel bilancio della regione sono 3 miliardi su 5, però noi abbiamo la grande responsabilità della redistribuzione di quella spesa. Senta, poi volevo arrivare anche alla mia, ne ho discusso ieri e le abbiamo fatto anche una domanda su questo, perché emerge anche dal dibattito qui, rei, mia, ora reddito di cittadinanza, qualcuno si spaventa che quanto ha percepito per esempio l'anno scorso, gli ultimi due anni, possa fare cumulo adesso e quindi infici la possibilità di ottenere il reddito di cittadinanza, pare da quello che abbiamo capito noi che sarà l'Inps a fare lo scorporo e quindi a non conteggiare questo. Il problema è lì, poi è l'ISEE, tu fai il calcolo sull'ISEE, se superi la soglia hai il diritto al reddito oppure non ce l'hai. Nell'ISEE sarà inserito quello che ha percepito anche da mia, diciamo, sostegno a reddito, però in teoria dovrebbe essere scorporato. Allora, adesso qui si sta facendo tutte le valutazioni, allora prima questione, si introduce il nuovo reddito di cittadinanza, si termina l'esperienza della mia. Quindi il sostegno al reddito regionale non ci sarà più, giusto? Non ci sarà fino a quando non valuteremo le condizioni, ci sarà per quelli che devono completare questo percorso, a meno che coloro che stanno completando questo percorso non accedano al nuovo reddito di cittadinanza. Quindi potrebbero dire no, annullo la mia domanda. Se sono calcoli delle persone e se hanno diritto e ritengono che sia più vantaggioso per loro riferirsi al reddito di cittadinanza, avranno la possibilità di acquisire quello che, ripeto, è una misura di natura statale governata dal sistema statale. La Regione su quella vicenda lì non c'entra più. La Regione potrà centrare una volta che deciderà se varare una misura che si aggiungerà a quella del reddito di cittadinanza. Ma prima di arrivare a questo è chiaro che noi dobbiamo calcolare bene gli effetti di quella misura e conoscerne i dettagli, cosa che ancora stiamo cercando di capire anche negli ultimi contenuti dei decreti che devono essere convertiti in norma, quelli che sono questi aspetti. Certo, l'esito della mia che ieri abbiamo presentato in Commissione ci consente di dire alcune cose importanti, perché è vero che noi abbiamo abbattuto, anzi il centro-sinistra in quella misura ha abbattuto la povertà di questa regione, però l'ha abbattuta in maniera sbilanciata, perché quando tu hai il 29% delle famiglie con intere persone straniere, il 45% dei beneficiari stranieri è evidente che quella è una misura sbilanciata. L'avete aumentato da 2 a 5, lo ricordavo anche ieri gli anni. Adesso noi abbiamo aumentato dai 2 anni a 5, ricordo che il reddito di cittadinanza ne prevede 10. E lungo il suo giornale. Quindi noi abbiamo cercato di riequilibrare quella cosa lì per l'ultima coda, però è chiaro che lì c'è un problema che poi ci si ritrova rispetto alle percentuali dei beneficiari nei grandi agglomerati urbani, quindi da Trieste a Udile tra il 6,4% fino al 9,2% dei beneficiari rispetto ai residenti, quando la media si attesta tra il 2 e il 3%. Senta, Assessore, mantiene l'idea di voler utilizzare anche di notte i macchinari, come si è detto in campagna elettorale, come fa il vicino Veneto, l'altro giorno ha presentato i dati, tra l'altro su questo, e come si riesce a fare questo nel momento in cui si vogliono controllare le risorse, limitare gli sprechi e c'è il taglio dell'1% che diceva prima. Sicuramente il modello organizzativo è uno dei grandi temi che noi abbiamo davanti, quindi noi siamo abituati a acquisire attrezzature importanti e poi farle lavorare poche ore perché il calcolo dell'ammortamento nel pubblico non lo fa nessuno. Ci sono le stesse attrezzature che nei sistemi accreditati determinano margini per l'investitore privato, ma sicuramente non lavorano e non hanno un'organizzazione così pesante come nel pubblico. Io penso che la vicenda anche del rapporto pubblico-privato sia uno dei grandi temi che ci possa aiutare a migliorare le prestazioni del servizio e la qualità delle prestazioni. Quindi l'obiettivo però è arrivare ancora ad avere la possibilità di fare esami anche di notte, questo resta come obiettivo. Bisogna cercare di utilizzare le tecnologie nel maggior tempo possibile, questo è evidente, questo significa rivedere il modello organizzativo. Ha visto che Schaurly l'ha attaccata qualche settimana fa perché lei ha detto che il privato deve intervenire dove non arriva il pubblico, una cosa del genere, come dare troppo spazio il privato le ha detto. Schaurly fa il suo mestiere, è una regione comunista perché alla fine se andiamo a guardare i dati Lombardia e Veneto hanno un accreditamento delle prestazioni sanitarie all'ospedaliere specialistiche tra il 15 e il 30%, il frio di Venezia e Giulia sarà il 3,8%. Cioè i privati, però il Zaia dice il 12% in Veneto. 15% Veneto, Lombardia 30% e ricordo Veneto e Lombardia sono i migliori servizi sanitari regionali di questo paese. Quindi lei dice il privato è per il miglioramento ulteriore Io dico che con l'equilibrio e il buonsenso, una forte capacità di controllo del pubblico dove non si scherza. Se io accredito delle prestazioni, quelle prestazioni devono essere controllate, devono garantire il sistema di sicurezza e il pubblico lo deve fare. Però ci sono alcune condizioni di peso nel sistema pubblico che oggi devono essere affrontate. Guardi, noi il costo del personale del servizio sanitario regionale, io sono per pagare di più quelli che lavorano di più e c'è tanta gente che lavora nel nostro servizio sanitario regionale che alla fine rischia di essere pagato quanto quelli che lavorano un po' meno. Quindi noi dobbiamo avere il coraggio di entrare dentro certe cose. Su 2 miliardi e 4 di spesa corrente noi abbiamo un miliardo di spesa del personale. Il 10% di questa spesa è determinata da condizioni di premialità e indennità di posizione. Siamo sicuri che tutte quelle indennità di posizione sono riconosciute effettivamente per il lavoro che viene svolto dalle figure che oggi hanno quel tipo di ruolo? Allora io penso che quelle persone lì che fanno il loro lavoro devono essere pagate ancora di più, ma non credo sia giusto che tutti quanti siano livellati senza la capacità di misurarne il valore della prestazione che sono in grado di garantire. E come si fa con una valutazione? Si fa con una valutazione oggettiva e si fa mettendo in discussione tutti. Cosa che invece quando vai a dire... E chi fa questa valutazione? I colleghi? Il management e i manager sono pagati per questo. È il loro compito. Chiarissimo. Senta, l'ultima cosa che le chiedo, quando sono i bandi per i direttori generali? O restano commissari? Quanto? No, stiamo già lavorando ai bandi perché abbiamo sempre detto... Guardi, ho letto che c'è una polemica qualche minuto fa del solito... Eh beh, sono... Fasso il mestiere, no? Buonietto 5 Stelle, intendo. Allora, sì, sì. Se lo prende più con lei che con la Lega, vero o no? Beh, insomma, è normale. Sarei preoccupato se non fosse così. Sarei preoccupato se non fosse così. Se io avessi il 5 Stelle che mi dice che è d'accordo con me, sarei molto preoccupato. E quindi, no, su questo voglio dire, noi stiamo lavorando ai bandi e non appena sarà possibile questi bandi partiranno. Prova ne sia, prova ne sia, che nella norma c'è scritto che il periodo di transizione nella gestione di questo periodo di accorpamento delle aziende. Si parla di entro la fine del 2019, non si parla del 2019. Quindi quando dico entro... Entro, quest'anno... Già nella norma c'era lo spirito che questo periodo di transizione potesse essere il più breve possibile. Che è un'altra cosa che dice, credo, un sai appunto che lei citava poco fa è che i direttori generali, i commissari sono più o meno gli stessi volti che c'erano anche in precedenza con la giunta Seracchiani. Beh, guardi, il dottor Marco Longo aveva un contratto e bisognava... i contratti si rispettano perché altrimenti poi nasce qualche contenzioso. Il dottor Pugiana ha incontrato un consenso importante del sistema territoriale dove ha lavorato. Il dottor Tonuti stava in direzione, non stava in un'azienda. Il dottor Dal Boloche al burlo stava in direzione, non stava in un'azienda. Quindi non mi pare che tutti questi volti che c'erano prima sono ancora lì. Poi c'è il tema del commissario che è un periodo limitato. Adesso vedremo, faremo i bandi e vedremo le professionalità che riusciremo a conquistare per questo sistema. Io sono preoccupato di questo ma sono preoccupato di altre due cose che secondo me sono i pilastri veri sui quali noi riusciremo a vincere la sfida o meno di questa partita. Il primo è una forte accelerazione del sistema informativo. Già nei prossimi giorni noi presenteremo il fascicolo sanitario elettronico che consentirà di fare un investimento importante e consentirà alle persone di correre un po' meno e di vedere arrivare a casa delle cose che riguardano la loro salute. Il secondo tema è un ritardo significativo nella formazione dei quadri del sistema sanitario. Non parlo dei medici, parlo della tenuta del sistema delle aziende. Un'azienda non funziona se non ha una rete di quadri importante. Noi lì abbiamo grande ritardo e anche lì dobbiamo formare molte persone e probabilmente non riusciremo a godere della formazione di questa nuova classe dirigente che probabilmente ci sarà utile per il futuro. Presidente, le chiedo un'ultima cosa, lei che è sempre un fine analista, commentatore, una visione sempre del mondo, è un ruolo di peso in Forza Italia, come la vede questa cosa della Cina? Noi ne abbiamo parlato anche questa sera, spogliandosi il ruolo istituzionale o se vuole tenerlo. Stiamo scegliendo tra Cina e Stati Uniti? Siamo parte? Siamo quel famoso cavallo di Troia che dicono che permetterà di entrare in Cina e colonizzarci di cezzaia? Cosa sta succedendo? Ho letto molto, ho ascoltato molto, ho visto molte semplificazioni. Io penso che questa terra non si può, in particolare questo pezzo di regione, quindi questa città, quest'area qui, non possa permettersi di vivere una cosa che è già vissuto nel passato. E quindi lo dico con grande prudenza, io sono dell'opinione che l'opportunità di traffici, di maggiori traffici, di scambi economici sia una grande opportunità da cogliere, ma le leve del governo nel sistema non possono essere cedute, perché altrimenti un paese non è più un paese. Quindi non parla di una parola che veniva affibbiata più alla Forza Italia che è l'immobilismo, parla di governatori che non sono di questa terra. Io dico che il sistema portuale dell'Alto Adriatico con Trieste, Bari, Centro e la prospettiva strategica non soltanto del Friuli, Venezia e Giulia, ma di questa parte dell'Europa. perché l'arco sud europeo si basa sul sistema, uno dei punti centrali è il sistema dell'Alto Adriatico dove Trieste e il Bari, Centro. Questo significa creare condizioni di attrazione dei traffici, ma questo non significa cedere le leve di governo degli asset, perché se noi cediamo il governo delle leve degli asset è evidente che noi non governiamo più il nostro sistema e questo a mio parere è inaccettabile. Lo dico non alzando la banniera del sovranista, però questo è un passaggio stretto che va visto con grande prudenza, con grande equilibrio, ma nel tutelare gli interessi dell'Italia. Grazie, grazie Riccardo Riccardi, assessore buon lavoro, a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera puntuali con Ringa. Grazie, buonanotte.